Quali strategie, quale programma per la stagione 2024-2025? Due giorni fa il presidente Sebastiani ha testualmente dichiarato in questo momento la priorità è cedere il club. Se dovessi restare, la rosa verrà ulteriormente ringiovanita. Situazione dunque di incertezza. Dell'Icarri verrà confermato? Il DS è in scadenza e attende comunicazioni ufficiali. Se, come sembra, la proprietà non dovesse cambiare, sarebbe opportuno approfittare di queste settimane per anticipare i tempi e allestire una rosa con logica, ovvero centrando i ruoli, guardando perché no a chi con poco è riuscito a fare tanto. Ci riferiamo a Mantua e Juve Stabia, promosse in B dopo aver sbaragliato la concorrenza di club ricchi e ambiziosi, vincendo nettamente i rispettivi gironi. A e C non sono state imprese frutto del caso? Assolutamente no. Alla base c'è sempre la conoscenza. Certo, le risorse aiutano, sono sicuramente importanti, ma in C a fare la differenza sono soprattutto le idee. Sotto questo profilo la scorsa stagione è stato fatto un buonissimo lavoro. Quest'anno decisamente no. Altresì fondamentale la scelta del tecnico. Ricominciare da capo, dopo aver più o meno smantellato per esigenze di bilancio, è sempre complesso e problematico. d'obbligo un minimo di progettualità affinché il percorso da intraprendere abbia soprattutto una percentuale di ambizione che quest'anno, ai noi, non c'è mai stata.